La bandiera del Brunei è gialla, tagliata da due bande diagonali bianca e nera. Nel sudest asiatico il giallo è tradizionalmente il colore della regalità, mentre le strisce rappresentano i due principali ministri del Brunei, il Pengiran Ben Dahara, primo ministro, simboleggiato da una striscia bianca leggermente più spessa, e il Pengiran Pemancha, secondo ministro, che governa gli affari esteri, simboleggiato dal nero. Al centro, di colore rosso, è posto lo stemma del Brunei, costituito da una mezzaluna rivolta verso l'alto, che simboleggia l'Islam, unita a un parasole, la monarchia, con le mani sui lati che simboleggiano la benevolenza del governo. Sulla mezzaluna c'è il motto nazionale del Brunei in arabo, rendi sempre servizio con la guida di Dio, mentre lo stendardo sottostante riporta Brunei, la dimora della pace.